Buon pomeriggio dalla redazione di live, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione che in primo piano vede un'ampia pagina dedicata alla cronaca e in primissima battuta quello che è stato un colpo, un furto in abitazione in una villa del quartiere di Cajunvico in città. Il fatto, ed è molto particolare, peculiare, è avvenuto in pieno giorno, domenica pomeriggio attorno alle 13 e vi sono anche le immagini immortalate dai passanti con i propri smartphone dei tre malviventi attualmente in fuga. Sette minuti di orologio per entrare in una villa di via Gallina a Cajunvico e razziare tutto quanto è stato possibile, denaro, gioielli e anche due pistole regolarmente detenute. Erano in tre immortalati da telecamere e smartphone dei passanti con il volto coperto da un passamontagna. Due, flessibili alla mano, hanno tagliato in feriate, mandato in frattumi o vetro e sono entrati nell'abitazione. Il terzo, a fare il palo, era al volante di un Audi pronta alla fuga. È accaduto domenica alla piena luce del giorno delle 13. In casa non c'era nessuno, infatti i proprietari se ne erano andati alle 9 del mattino. I banditi, nonostante il brevissimo lasso di tempo e l'allarme in funzione, sono riusciti ad trasportare una cassaforte che si trovava sul mobile in camera. Sempre con il flessibile, hanno poi svuotato una seconda cassaforte e sono fuggiti. I tre, che peraltro non sono passati inosservati visto l'orario e la giornata festiva, si sono allontanati a bordo dell'Audi con la targa che sarebbe risultata falsa. Risveglio da incubo questa mattina per chi si trovava sull'autostrada 4 in direzione Milano perché in territorio bergamasco c'è stato un maxi incidente, ben 30 pensate le persone coinvolte, fortunatamente con conseguenze non troppo gravi, invece ripercussioni pesanti e come ci sono state sulla viabilità. È stato un inizio di giornata difficile per la viabilità lombarda a causa di un grave incidente avvenuto sull'autostrada 4 nella Bergamasca attorno alle 6 nel tratto compreso fra Bergamo e Capriate in direzione Milano. 30 in totale le persone coinvolte che viaggiavano su quattro diversi furgoni e un'automobile. Sul luogo dell'evento sono intervenuti soccorsi sanitari con quattro ambulanze e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale di autostrade per l'Italia. Fortunatamente le conseguenze per la salute dei viaggiatori sono state minori rispetto a quanto prospettato all'inizio. Solo tre persone hanno infatti necessitato del ricovero in codice giallo agli ospedali di Zingonia e Gavazzini. Pesantissime invece le ripercussioni sul traffico veicolare e l'autostrada che in quel tratto è di quattro corsie è stata ridotta della metà per consentire le operazioni di soccorso e messe in sicurezza. Questo ha causato code fino a 8 km. Attorno alle 8.30 è stata confermata la riapertura totale del traffico e nel giro di poco tempo la coda si è smaltita. A metà mattinata la situazione era già tornata alla normalità. A proposito di sicurezza stradale un'altra notizia che leggiamo insieme sulla ebrecia.tv il nostro quotidiano online relativa appunto a un incidente avvenuto nella giornata di ieri in particolare a Palazzolo. È grave ed è ancora ricoverato in grave condizioni. L'uomo di 66 anni, un ciclista investito da un'auto poco prima delle 14 di ieri a Palazzolo sull'olio per la precisione sulla strada provinciale 469. Nel violento impatto l'uomo ha riportato un trauma cranico serio ed è stato ricoverato in eliambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Sul posto anche un'automedica e la polizia stradale per i rilievi del caso per provare a ricostruire la dinamica e le cause di questo incidente. Ancora cronaca questa volta però giudiziaria perché ieri la Corte di Cassazione ha depositato quelle che sono le motivazioni della sentenza che lo scorso primo luglio ha confermato l'ergastolo per Giacomo Bozzoli accusato e condannato all'ergastolo appunto per aver ucciso lo zio Mario Bozzoli. 30 pagine di motivazioni fra le quali viene ribadito in modo deciso come il famoso esperimento con la carcassa di maiale sia stato determinante appunto per questa conferma. L'esperimento effettuato durante il primo grado di giudizio con la carcassa di un maiale depositata in un forno simile a quello della fonderia di Marchino è stato determinante per la conferma della condanna. Lo sue vince dalle motivazioni depositate dalla Cassazione della sentenza che lo scorso primo luglio ha ribadito l'ergastolo per Giacomo Bozzoli. L'accusa è quella di aver ucciso in concorso con Oscar Maggi e Giuseppe Ghirardini lo zio Mario. Durante l'esperimento giudiziale l'introduzione della carcassa di un maiale già deceduto nel forno della fonderia simile a quello della Bozzoli i periti avevano verificato la completa carbonizzazione dell'animale e la polverizzazione dei resti ha scritto la Cassazione secondo quanto riporta l'Ansa. Ciò dimostrava che il mancato rinvenimento di residui della vittima non entrava in contraddizione con la tesi di accusa secondo cui il corpo di Mario Bozzoli sarebbe stato distrutto all'interno del forno grande dello stabilimento di Marchino. Secondo la dottoressa Cartaneo consulente del PM questa tesi era inverosimile poiché qualche residuo negli scarti ci sarebbe dovuto essere. L'esperimento successivo voluto dal presidente della corte d'assise Roberto Spanò supera nei fatti questa consulenza ridando quindi valore alla ricostruzione dell'accusa. Infortuni sul lavoro una problematica che lo sappiamo è più che mai attuale una problematica che è stata analizzata in un report da Conf Cooperative Lombardia report che alla fine certifica innanzitutto quello che purtroppo è un triste primato per la nostra provincia. Secondo a solo Milano per denunce di infortuni e certifica anche quello che è l'altissimo costo non solo economico ma ovviamente anche sociale delle infortuni e delle morti proprio sul luogo del lavoro. In Lombardia sono 71.894 le denunce di infortunio rilevate da Lina il da gennaio ad agosto 2024 con un aumento dello 0,8% rispetto all'anno precedente. In termini assoluti la provincia di Milano si conferma quella con il maggior numero di infortuni con 23.798 denunce seguita da Brescia con 10.049 e poi Bergamo con 8.451. Secondo l'elaborazione di Conf Cooperative Lombardia nel 2024 oltre la metà degli infortuni riguardano il comparto terziario e industriale. Per età ad essere maggiormente esposti sono i lavoratori under 20 e over 60. Per quanto invece riguarda i settori più a rischio sulla base dei codici Ateco i dati restituiscono un quadro negativo per il comparto sanitario e di assistenza sociale che vede salire le denunce di infortunio del 44% fra gli ambiti che registrano trend in aumento quello delle costruzioni e quello del trasporto e magazzinaggio. Nel 2024 fra il mese di gennaio e quello di agosto in Lombardia si sono registrati 121 morti sul lavoro l'8% in più rispetto al 2023. Secondo il report elaborato da Conf Cooperative in occasione della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro gli infortuni hanno anche un altissimo costo economico e sociale. Solo nei primi otto mesi del 2024 in Lombardia ammonta ben 3,9 miliardi di euro. In questi ultimi giorni vi potrà essere capitato di aver letto su diverse magari testate del nostro territorio un'altra notizia relativa a un tema anche questo strettamente attuale come è appunto il disagio giovanile come è invece il fenomeno ribattezzato delle baby gang. Ebbene questa notizia non l'avete letta sulla nostra testata online non l'avete vista in onda nel nostro telegiornale e allora il direttore di Elive Paolo Bollani ci spiega perché. La loggia ora decide chi deve partecipare alle conferenze stampa e chi no o meglio a chi dare le notizie. Ne prendiamo atto ma non possiamo certo tacere di fronte a un atteggiamento che giudichiamo di una gravità inaudita per un'informazione libera e indipendente. La loggia ha commissionato tempo fa uno studio sul disagio sociale e sul fenomeno delle baby gang e nei giorni scorsi ha comunicato l'esito di questo studio ma per farlo ha invitato solo tre quotidiani della nostra città, tre testate ovvero Corriere, Brescia Oggi e giornali di Brescia e nessun altro e a questo incontro non è seguito nemmeno un comunicato stampa. Innanzitutto lo chiedo in primis all'assessore Mucchetti il perché. In seconda battuta ovviamente anche alla sindaca come è possibile che il comune di Brescia con una comunicazione così importante e fra l'altro di stretta attualità abbia deciso di informare solo tre testate. Alle conferenze stampa sui tombini spostati abbiamo diritto a esserci e invece su quelle più importanti di stretta attualità invece no. È un fatto gravissimo che lede il diritto di un'attestata come la nostra ad informare i Bresciani in modo indipendente accedendo alla fonte della notizia e mi spiego meglio noi non scriviamo quello che leggiamo sui giornali, non lo facciamo per etica professionale, non lo facciamo per rispetto di chi ci legge ogni giorno che deve avere la garanzia che le notizie che legge sui live siano notizie frutto del nostro lavoro. Chiedo un'immediata reazione alla sindaca Castelletti e fin quando non ci sarà non parteciperemo a nessuna conferenza stampa del comune di Brescia. Se lo riterremo opportuno, se la notizia che verrà comunicata sarà di pubblica utilità e sarà utile per i nostri concittadini e per i nostri lettori ne daremo notizia in modo ridotto, testuale, senza audio e senza video. Rimaniamo in città per un'altra problematica segnalata ad esempio tantissimo sui social ovvero ad esempio quello che è l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei cassonetti ma nel 2024 è giusto che una città come Brescia li abbia ancora? Noi ce lo siamo chiesti. Fra calotte rotte, inciviltà conclamata e molte inutili possiamo dire che forse è il momento di cambiare sistema? La colpa del comune di Brescia e di Aprica è fino a pagina 2, è evidente. L'inciviltà di molti, troppi bresciani, è talmente radicata che sperare di invertire la rotta sembra essere una battaglia persa. Quanto ci costa la continua rincorsa degli operatori ecologici a raccogliere i rifiuti abbandonati e a ripulire? E la gestione dei cassonetti? I guasti alle calotte? Multe, fototrappole davanti ai cassonetti costate una cifra abnorme tra acquisto e soprattutto gestione e pattugliamenti hanno dato risultati risibili e inutili a risolvere il problema dell'abbandono fuori cassonetto. Difficile non trovarsi d'accordo su un punto, la guerra contro il fuori cassonetto non la si vince, impossibile, semmai si possono vincere delle battaglie ma sarà sempre una rincorsa. E allora perché la giunta Castelletti non prende il toro per le corna e passa alla raccolta porta a porta per tutti i rifiuti? Lo fanno Cremona, Bergamo da oltre 20 anni e un servizio attivo anche in molti comuni della provincia. Perché insistere sui cassonetti? Ovunque ci sono, sia con apertura contessa o senza, l'abbandono dei rifiuti sembra uno sport più popolare del calcio. Non sarebbe più bella una città senza cassonetti per le strade, soprattutto del centro storico? La tua città europea senza cassonetti. Cambiamo argomento, il maltempo, maltempo che la scorsa settimana è tornato nuovamente a colpire in maniera decisa anche il nostro territorio, ma più in generale un po' tutto il nord Italia in questi giorni sta lasciando un po' di tregua e lo scopriremo fra poco con 3B, però c'è anche da capire quelle che sono le conseguenze, purtroppo bene lo sappiamo, sul settore agricolo. Un'agricoltura denuncia col diretti attualmente paralizzata. Le campagne lombarde sono in crisi a causa delle forti piogge. Secondo la col diretti Lombardia i terreni sono allagati, gli agricoltori non riescono a lavorare i campi. Non sono ancora terminate le raccolte di riso, mais e soia con cali produttivi stimati fra il 20 e il 30%. Se non tornano condizioni meteostabili, scrive col diretti, si rischia di perdere completamente le produzioni rimaste. Inoltre i ritardi interessano anche le olive e gli sfalci dei prati, con il rischio di incappare nelle prime gelate di stagione. Le impossibilità di seminare cereali autunnali come frumento e orzo complicano ulteriormente la situazione. Col diretti Lombardia ha chiesto alla regione un aderoga al divieto invernale per la distribuzione degli effluenti zootecnici necessaria per gestire le aziende agricole in questo periodo non facile. Questa situazione, conclude col diretti Lombardia, dimostra ancora una volta come l'agricoltura, sia l'attività economica che più di tutte le altre, vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici in atto. Come promesso i dettagli, l'approfondimento di Trebi Meteo a partire da quella che è stata la cronaca di questi ultimi giorni, bene la conosciamo, che purtroppo ha toccato anche da vicino la nostra Brescia con la morte di Simone Farinelli. Ben trovati in aggiornamento con il TG di Trebi, cronaca del fine settimana, con alluvioni che hanno interessato da nord a sud diverse regioni d'Italia. Possiamo vedere intanto le cumulate, le precipitazioni copiose che hanno interessato, queste sono le cumulate di sabato in 24 ore, che hanno interessato molte regioni, soprattutto il medio-alto adriatico e la parte ionica, Sicilia, Calabria le zone più colpite, oltre i 100-150 mm localmente in alcuni casi, ma tanta pioggia caduta anche in Emilia, addirittura qui in 24 ore punte anche di 150-170 mm sull'appenino bolognese, ma tanta pioggia anche in pianura, che va a sommarsi a un peggioramento che è durato nel complesso 3-4 giorni. Andiamo a vedere appunto queste immagini, qui siamo lungomare, Calabria, con allagamenti, ma abbiamo visto anche la Sicilia, la parte del Catanese con disagi e allagamenti diffusi, e poi Bologna, città emiliana duramente colpita proprio sabato sera con lo ripamento di diversi torrenti che hanno allagato diverse zone della città e poi anche dell'Interland. Immagini eloquenti e drammatiche. Andiamo a vedere la situazione del satellite in queste ore con il minimo di bassa pressione che si trova attualmente tra l'Uionio e il Nord Africa, ma risalirà di nuovo, ci sarà una blanda zona di bassa pressione nei prossimi giorni su ovest e mediterraneo e quindi ancora dell'instabilità sull'Italia. Possiamo vedere di fatti martedì qualche pioggia ancora sulle regioni del sud e centrali tirreniche, dei forti temporali nuovamente sulla Sicilia, e poi mercoledì tanta variabilità sull'Italia con dei fenomeni possibili ancora in alcune zone, soprattutto tra Sardegna, regioni centrali e bassa pianura padana. Maggiori dettagli approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. Lo sport con la pallavolo e la soddisfazione, anche forse un po' di sollievo per l'arrivo della prima vittoria stagionale dell'Atlantide pallavolo Brescia, vittoria che è arrivata in casa, quindi davanti al pubblico del San Filippo, ma è arrivata anche in modo deciso un 3-1 contro la Conad Reggio Emilia, che quindi vale l'intera posta. Sentiamo le parole di coach Zambonardi e di Alex Serati. È stata una battaglia, ma sono convinto e certo che ogni partita sarà una battaglia contro chiunque, perché il livello è molto alto e le squadre stanno giocando tutte quante molto bene, per cui prepariamoci a affrontare una stagione che ci auspichiamo sia molto positiva, ma dove si vedranno delle grandissime battaglie. Abbiamo fatto delle buone cose, in tutti i fondamentali, dove abbiamo commesso degli errori, un po' a colpo nostro, ma tanto anche merito di Reggio Emilia, che ha disputato una grandissima partita. Per cui godiamoci questi tre punti, continuiamo a lavorare come stiamo facendo e ricordiamoci che ogni partita è difficile e la vittoria non è mai scontata. Bisogna conquistarla, lottarla, i ragazzi stanno quotidianamente sudando, lottando e con l'intenzione e la voglia di vincere a tutti i costi. Credo la cosa più importante fosse vincere in casa per liberarci, sbloccarci e vincere da tre punti sempre bene. Secondo me loro hanno giocato bene, non erano partiti forti, ma poi hanno fatto qualche cambio e hanno giocato molto forte, soprattutto in battuta. Ci sta nel senso, secondo me ci sta molto soffrire, vincere soffrendo, perché aiuta nel proseguito del campionato a queste situazioni di difficoltà, affrontarle, fidarsi. Dovevamo fare tre punti, li abbiamo fatti e ora pensiamo a Siena che è uno squadrone. Ci fermiamo qui con questa edizione del telegiornale, ma le notizie non si fermano su elivebrescia.tv, il nostro quotidiano online sul quale se volete potete anche trovare 24 ore su 24 la diretta in streaming del canale 181 di Elive in questa finestra a destra della home page. Se invece volete sempre rimanere connessi e comodamente informati con Elive ci sono tutte le nostre pagine social, canali Telegram e WhatsApp e anche la nostra applicazione gratuita che contiene davvero tutto. Grazie per averci seguito anche quest'oggi, l'informazione tornerà in tv questa sera dalle 19 e quindi per il momento non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto.